Musica Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta, ho il piacere di ospitare questa sera il campione del mondo di ginnastica aerobica, Davide Donati. Davide, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Katia. È un piacere e un onore averti ospite, dicevo campione del mondo, fresco, freschissimo. Sì, abbiamo riconfermato il titolo mondiale in Portogallo, io con la ragazza con cui faccio la coppia, Michela Castoldi, è un'emozione. Hai ancora sorriso naturalmente, non era il primo titolo mondiale al collo, però riconfermarsi a due anni di distanza, non è semplice. No, è vero, ci abbiamo lavorato davvero tanto e sono due sensazioni completamente diverse, perché la prima volta non ce l'aspettavamo. Sì, lottavamo per anche il titolo, ma eravamo tutti gli aspiranti a loro, erano molto attaccati come punteggio ed è stata davvero una sorpresa. E poi c'era l'emozione della prima volta e tutto. Invece quest'anno eravamo più consapevoli delle nostre possibilità, sapevamo di averlo già fatto, quindi sapevamo che avremmo potuto rifarlo. E poi, soprattutto dopo un anno, il 2017, non proprio felice a livello di risultati, è stato forse ancora più bello. Chi vi siete lasciati alle spalle quest'anno? Allora, sono arrivati i secondi rumeni e i terzi gli ungheresi. Che erano i vostri rivali storici, presumo? Sì, sempre stati i rumeni, i ungheresi e anche gli spagnoli sono sempre stati fortissimi nella coppia. Quest'anno la coppia più forte spagnola ha smesso e comunque abbiamo sempre anche combattuto contro di loro. Cioè, avete svolto un programma perfetto? Allora, ti dirò la verità. Allora, ci sono stati allenamenti in cui a livello esecutivo abbiamo svolto il programma in modo migliore, però a livello di emozioni, perché nel nostro sport si valuta anche l'artistico, che è una componente di tante cose, tra le quali devi riuscire a trasmettere qualcosa. A livello di emozioni è stata forse la routine che ho sentito di più, tant'è vero che a 15 secondi dalla fine stavano piangendo tutte e due e quindi diciamo magari a livello esecutivo non perfetti perfetti, anche se comunque è una buonissima prova, però a livello emozionale è la migliore forse che abbia mai fatto. Ginnastica aerobica a coppie, che affinità dovrai avere con la tua partner? Davvero tanta. Io ho sempre detto che lei è la persona che conosco meglio e la persona che mi conosce meglio. Ci conosciamo dal 2007, dal 2007 che lavoriamo sempre insieme, facciamo la coppia e allo stesso tempo, nonostante sia la persona che per me è più importante in assoluto, è anche la persona con cui mi scontro di più. Perché quando arriva la tensione, magari un allenamento non è andato bene, i malumori, soprattutto sotto gara, diventa difficile lavorare. Sì, fortunatamente c'è una stima incredibile, c'è un'amicizia incredibile e quindi va bene, però ci sono momenti in cui ci arrabbiamo davvero l'uno con l'altra e è difficile. Beh, hai dato una parola bellissima la stima e non è cosa da poco. Ci si fidanza anche tra coppie? Sì. È il vostro caso? È successo. Ok. E poi quando si litiga a livello di risultato, cosa succede? Che la lancia e non la prendi? Anche. Hai provato a succedere, l'ho lanciata per terra. Adesso è stato sgridato giustamente, ok, non con cattiveria, non con intenzionalità, però è successo. Però l'importante è riuscire ad andare oltre. Nel senso in palestra siamo due persone, siamo due atleti, poi quando usciamo si lascia da parte la palestra, si lasciano da parte i problemi e diciamo si lascia solo il rapporto che c'è tra i due al di fuori della palestra. Tu gareggi anche a livello individuale? Faccio anche individuale e gruppo. E qual è delle tre? Quale a cui ti senti più agio? Allora, la mia preferita è il gruppo, perché è più divertente, si è in cinque, si crea anche lì, c'è tanta amicizia. Faccio il gruppo nazionale con Michela e altri tre ragazzi. Si può nominarli? Ok, Paolo Conti, Emanuele Caponera e l'anno scorso Sara Natella e quest'anno che ho avuto un problema fisico Marcello Patteri. Ragazzi fantastici con cui ho creato un'amicizia incredibile da quando abbiamo iniziato a fare il gruppo insieme nel 2015. Mi sento di dire che sono quasi come fratelli, cioè è veramente una famiglia bellissimo. E comunque quella è la categoria che preferisco di più. La coppia, anche se è quella che ci ha dato più soddisfazioni e le più grandi emozioni, è forse quella più difficile da allenare. Appunto perché sia in due, quando ci si scontra, è difficile anche a livello fisico, visto che ci sono dei pezzi in cui ci sono dei sollevamenti e quindi è una persona che solleva un'altra persona. Invece magari nel gruppo sono quattro che sollevano uno, visto che il gruppo ha cinque. Quindi, scusa Davide, quando tu vedi Michela mangiare un pezzettino di cioccolato, la sguidi? No, sono sempre stato, allora lei si sa regolare benissimo, sa quello che deve fare, non ha di questi problemi. Ovviamente a volte scherziamo, dico mazza quanto pesi, però ovviamente non è vero. E poi c'è l'individuale che mi piace da una parte, nel senso che sei libero di fare quello che vuoi. Ok, c'è il tuo programma, c'è la tua routine prestabilita, però se succede qualcosa in gara, in allenamento, mi posso adattare, posso cambiare, cosa che non si può fare in una categoria composta. Però è il più noioso da allenare, perché sei da solo, ti annoi, quindi diciamo che preferisco coppia e gruppo. La soddisfazione di vincere un campionato europeo mondiale a livello individuale ha la stessa valenza di uno, di gruppo, coppie? Allora, io ti dico, a livello individuale ho vinto il campionato europeo junior del 2009 e sono arrivato secondo nel 2011. Però a me piace condividere, perché è proprio, sai, tu vinci o che è da solo, però poi sì, hai il tuo allenatore, con cui condividere la famiglia e anche i tuoi compagni di squadra, però è diverso rispetto a quando lo vinci con loro, cioè hai fatto la stessa fatica tutto l'anno, ti sei allenato tutto l'anno insieme con loro, magari hai passato anche i momenti brutti, gara è andata e male, poi ti ritiri su, vinci e bellissimo. Infatti anche nel 2015 abbiamo iniziato a vincere col gruppo, abbiamo vinto con l'europeo e è stato veramente stupendo. Come nel patinaggio artistico su ghiaccio è già successo che alla vigilia di un grande appuntamento uno dei due partner si sia infortunato e qua ti cade il mondo addosso, ovviamente intercambiare uno dei due last minute è fattibile? Da noi no, a me è successo l'anno scorso, prima dei War Games, che sono una gara, la chiamano le Olimpiadi degli sport non olimpici, sono tutti questi sport non olimpici che si raggruppano, fanno queste gare, c'è stasettimana due settimane di gare e 20 giorni prima Michela si è infortunata, si è rotta un legamento del piede, parzialmente lacerata non del tutto, è stata in stampelle una settimana, poi abbiamo provato a riprendere, lì veramente ci è caduto il mondo addosso perché volevamo far bene, volevamo vincere una medaglia, ci abbiamo provato ma siamo arrivati lì e non ce l'abbiamo fatta, la gara è andata male, però non è possibile cambiare perché comunque devi imparare una coreografia, devi imparare degli elementi che magari non tutti sanno fare, delle interazioni che non tutti sanno fare, è più facile col gruppo come abbiamo fatto con Marcello che ha sostituito Sara, però comunque è stata una cosa fatta tipo 4-5 mesi prima, all'ultimo minuto, anche se c'è una riserva nel nostro sport è molto difficile, soprattutto in una coppia non c'è la stessa affinità. Davide, ho l'impressione che voi come motociclisti non rispettiate, ma per ovvi motivi di agonismo, i tempi di recupero, dopo un'importunio vi vediamo ingessati praticamente, ritornare in gara. Allora, è vero, di solito da noi succede così quando c'è un evento molto importante, ad esempio Michela si era fatta male a fine giugno, a luglio c'erano questi wargames, abbiamo provato a farlo, è andato bene, però dopo abbiamo a fine settembre gli europei, magari la cosa ideale sarebbe stato fermarsi e puntare bene mondiali, però comunque si è voluto provare perché gli europei erano in Italia, era una cosa a cui tenevamo tantissimo, e quindi a volte, come hai detto te, però magari si tralascia un po' la salute, però non in tutti i casi, nel senso ad esempio Sara, la nostra compagna di gruppo, aveva un problema e hanno preferito preservarla per l'anno prossimo e è saltato tutto quest'anno. Dipende, ci vuole sempre un buon equilibrio, non bisogna mai rischiare la salute, avere infortuni davvero seri, quando si può spingere un po' per cose davvero importanti, si trova. Davide, tu l'hai accennato, non è disciplina olimpica, un grosso rammarico. Allora, ti dirò, per il mio sport io desidero tantissimo che diventi olimpico, è proprio una cosa che anche quando diventerò allenatore e quando magari avrò qualche carica più importante all'interno della federazione internazionale ed europea, spingerò tantissimo per renderlo olimpico perché so che è praticamente il sogno di tutti gli atleti. A livello invece personale, non so se è il mio sogno, nel senso che io sono cresciuto già sapendo che non era sport olimpico e in più non so se sarei in grado di reggere tutta quella pressione. Penso che non sia una cosa da tutti, però auguro davvero tantissimo che diventi sport olimpico e che magari gli atleti che allenerò io riusciranno ad arrivare alle Olimpiadi. Beh, tu hai solo 24 anni, ci potrebbe ancora essere la possibilità, abbiamo Tokyo 2020 e poi non mi ricordo se saranno Parigi 2024, perché no? Io ho intenzione di fare ancora due annetti perché quello che volevo raggiungere l'ho raggiunto, io mi diverto un sacco in palestra, cioè mi piace proprio, è il mio mondo, anche quando esco dalla palestra penso alla palestra, guardo video della ginnastica e tutto, però si sta instaurando in me anche un desiderio, oltre che allenarmi, riuscire ad allenare gli altri e far crescere loro e quasi ora sono allo stesso livello questi due desideri. In più il fisico comunque, sì, sono giovane, però ho sempre i miei problemi fisici, quindi questa è un'ipotesi che si metterò nel 2020, però poi si vedrà, può essere anche che continui, dipende tutto, quella è l'ipotesi, però si vedrà, però l'io in piedi no. Mi sembra però che tu abbia già l'idea quanto chiare vorrai rimanere nell'ambiente. Sì, assolutamente. Ora ho iniziato a seguire i corsi dei bambini piccoli in palestra e poi mi piacerebbe allenare anche l'agonistica, i livelli più alti e poi un sogno che ho è quello di entrare nello staff della nazionale e magari, perché no, però devo ancora valutare bene le cose, entrare, come ti ho detto prima, nella federazione internazionale perché mi piacerebbe proprio portare questo sport più in alto ed è da lì che inizia tutto. Davide, è invece olimpica la ginnastica artistica? Esatto. Cugine, non so, se alla lontana o alla vicina? Diciamo alla vicina, facciamo parte della stessa federazione artistica maschile, femminile, aerobica, ritmica, trampoline elastica, acrobatica e fanno tutte parte della ginnastica perché comunque la base è quella. Semplicemente hanno delle differenze, diciamo che la prima nascere è stata l'artistica e loro hanno i maschi sei attrezzi e le femmine quattro, lavorano sui grandi attrezzi e ognuno va bene alle sue differenze, però appunto la differenza sostanziale è che hanno questi grandi attrezzi. Poi c'è la ritmica che lavora con i piccoli attrezzi che sono palla, cerchio, clavette, nastro e fune e la similitudine con la nostra disciplina è che hanno la musica, che c'è anche nell'artistica femminile ma sono solo in una specialità al corpo libero. Poi c'è il trampolino elastico che è, c'è il trampolone, il classico trampolone su cui uno va a saltare. Tappeto elastico. Uno magari non penserebbe, non pensa neanche che sia uno sport e invece uno sport e fanno delle acrobazioni incredibili. C'è ginnastica acrobatica che diciamo sono delle, fanno delle costruzioni tra di loro, dei, possono chiamare sollevamenti e allora appunto magari vedi tre persone, una giù, esatto, una verticale, sopra una planche, dei movimenti vicili e poi vabbè ovviamente ci siamo noi che è uno sport che prevede l'uso della musica su una pedana. C'è una coreografia, però non è una classica coreografia come si potrebbe pensare, ci sono dei passi base presi dall'aerobica, la prima aerobica e attraverso questi passi base monti l'esercizio, poi ci sono delle interazioni e transizioni che possiamo chiamarle tipo acrobazie, da cui prendiamo i movimenti della ginnastica artistica, magari qualche acrobatico, lo modifichiamo per rendere tutto più spettacolare e ovviamente gli elementi di difficoltà che ci sono in tutta la ginnastica, in tutti i vari tipi e poi dei sollevamenti che anche noi ovviamente solleviamo la partner o la persona del gruppo, così che vabbè non sono come quelli dell'acrobatica, però sono comunque molto belli. Quali sono gli elementi che una giuria giudica? Allora, ci sono tre parametri che sono l'esecuzione, parte da 10 e vai a scalare, ovviamente ad esempio una punta non tirata, una gamba non tesa, allineamento del corpo sbagliato, sono tutte penalità o dei falli, ad esempio uno cade mezzo punto di penalità e così via, poi c'è l'artistico che è la cosa più complicata e anche un po' più soggettiva, infatti è quella un po' più difficile da giudicare, ci sono certo dei parametri all'interno di questo artistico, la composizione dell'esercizio, lo spazio, la difficoltà di certi movimenti, non sto qui a spiegare che è complicato, e le difficoltà che vanno da un decimo a un punto, dipende dagli esercizi, nelle categorie composte ce ne sono nove, negli individuali ce ne sono dieci e più sono alte e meglio è. L'espressività forse non dà punteggio, ma è fondamentale? Diciamo che all'interno dell'artistico c'è una voce che richiede anche, ok, una minima parte perché è difficile giudicarlo oggettivamente, però un esercizio ti deve comunque lasciare delle emozioni, è più facile fare il proprio compitino, eseguire, però senza far provare emozioni al pubblico e provarle se stesse, che alla fine è anche delle cose che mi piacciono di più del mio sport, interpretare, il fatto di poter raccontare qualcosa e emozionare me stesso e il pubblico. Infatti è la cosa che ci diciamo quando entriamo in pedana, diciamo sempre, mi raccomando, testa, ma soprattutto emozioniamoci, facciamo emozionare. Davide, hai un sogno nel cassetto? Allora, a me è rimasto un ultimo obiettivo nella mia carriera, ci saranno i giochi europei, che non sono gli europei, ma le chiamano le Olimpiadi europee. C'è stata la prima edizione tre anni fa a Baku e sono praticamente tutti gli sport, come le Olimpiade, raggruppati in questo mega evento, il villaggio olimpico e tutto, però solo europee, come i giochi asiatici, ci sono i giochi europei, così. Tre anni fa siamo arrivati secondi con la coppia perché abbiamo commesso un errore. Sempre a Baku, se non sbaglio. Sì, a Baku. A me piacerebbe l'anno prossimo riuscire a salire quel gradino e anche, siccome ci siamo qualificati anche col gruppo, riuscire a prendere una medaglia anche col gruppo. e poi tutto il resto, quello che verrà dopo quella gara, si vedrà, però quello è il mio sogno. Te lo auguriamo di cuore, Davide. Grazie mille. Grazie a te. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.